conoscete la rosa dei venti sì non è che versa in buone condizioni quanto pare sì sarebbe bene insomma averla in ordine no minimo dai per l'estate per la bella stagione che andiamo incontro era un riferimento noi che passaggiavamo andavamo al mare la rosa dei venti insomma più che di venti bisogno di 40 lei viene spesso qui io abito qui di conseguenza non sarebbe male averla a posto no e soprattutto sarebbe anche più opportuno che i nostri comandanti vigili e sindaco facessero pulire anche un po più spesso questa zona questa zona perché i cani sporcano notevolmente sarebbe anche opportuno che il sindaco si desse da fare per organizzare anche un parco per i cani insomma non è bello che i cani vadano dove vanno i bambini sarebbe bello averla in ordine eh sì decisamente sì anche perché il mare un po la il simbolo anche uno dei simboli di fane quindi se riuscissimo a alle cose più preziose un attimino a risistemarle sarebbe sia per i turisti ma anche per noi che poi ci viviamo